Benvenuti a Autorità Portuale dei Cagliari, un anno dal Giro di Boa. Sì, tanto che il nostro caro Piercio Gio Massida ci ha convocato, perciò tutto il mondo della stampa, dell'opinione pubblica, per un resoconto amministrativo di quello che lui ha fatto. Noi l'abbiamo già intervistato in passato, tanto che facevamo presente Piercio Gio Massida, il porto di Cagliari, decolla, la città di Cagliari arranca. Ecco, lui ha fatto, come posso dire, è andato oltre capacità progettuale, idee, innovazione, tutto rinchiuso nel cervello del grandissimo dottor onorevole Cavaliere Vittorio Venti. Sì, ma io lo definirei anche barricadero, contestatore, promotore, capo popolo dell'autorità portuale di Cagliari. Bravissimi. Fra 20 secondi ve ne parliamo, perché dovevo mandare la pubblicità, caro professor Vitti, a Macanbao. Per mantenere i livelli di rendimento iniziale, gli impianti fotovoltaici hanno necessità di manutenzione e pulizia costante. Lisa Service di Flavio Trincas è lo specialista nella pulizia di impianti fotovoltaici. Aumenta la resa del tuo impianto anche del 30%. Lisa Service di Flavio Trincas. Non soffriamo di vertigini. Rientrati alla pubblicità, come vi abbiamo annunciato poco fa, abbiamo questa intervista di approfondimento con il presidente dell'ente porto, insomma dell'autorità portuale di Cagliari, che tanto sta facendo per questo nostro porto cagliaritano. Insomma, un po' zona franca e un po' no. Qualcuno ci toglie l'illusione che possiamo diventare una zona franca, anche perché pare sia un discorso anacronistico. Io del resto dici la zona franca, la benzina, costa meno. Io mi sono fatto l'impianta a gas a 3 a 3, infatti il porto a franco, la benzina, ma che me la regano. Sì, però lo facciamo poi sempre. Il popolo di Facebook, del web. L'ho un attimo contestato per aver ricevuto in pompa magna, così dicono a loro. Anche questo ha un pasciato iraniano. Iraniano, che insomma, appena sentito parlare di zona franca, giusto, arrivo io con le mie bombette al plutonio. No, lo scherziamo. Senti Antonio, ma questa benzina a 20 centesimo, questa autorità del porto di Cagliari, ce la concederà? Non si sa. Non si sa. Vediamo un'intervista. Presidenza dell'autorità porto di Cagliari, cambio di guardia, siamo quasi all'annetto, giusto? No, dopo domani. Dopo domani è un anno. Faremo una conferenza stampa e la cosa bella è che avremo difficoltà di tempo, perché dopo un anno abbiamo da raccontare tante cose. Del passato, quello fatto in un anno, e le tante cose che ci ripromettiamo di fare nei prossimi giorni. Non ultimo, anche in questa conferenza stampa, spero di dare qualche bella notizia, perché domani prenderemo l'aereo per andare alla fiera di Monte Carlo, dove presenteremo il progetto Cagliari. Il progetto Cagliari, che è quello di trasformare Cagliari in uno dei porti da diportismo più importanti del Mediterraneo. E abbiamo il desiderio, e faremo quindi questa proposta, che Cagliari accolga tutto l'anno, quindi che faccia svernare qui, i grandi yacht. Il nostro obiettivo è di portare i più grandi yacht del Mediterraneo a svernare a Cagliari. Il nostro desiderio sarebbe quello di dargli il moloic nusa, quello dove c'è la struttura che erroneamente viene considerata il termine al crociere, che invece in realtà è una struttura polifunzionale, che se fosse stata adatta solo per le crociere, la gente non lo sa, dove ci sono le crociere? Ci sono le aree sterili, cioè delle aree che rimangono chiuse in assoluto al semplice cittadino. Sia quando ci sono le crociere, sia quando non ci sono le crociere. Invece, nel nostro obiettivo, il cosiddetto crociere deve essere un patrimonio di tutta la città, dove i cittadini possono, come succede da altre parti, per esempio a Porto Cervo, tu vai al bar, vai al ristorante, e sei di fronte a delle navi bellissime che ti fanno sentire anche quasi partecipe di questo mondo che in realtà vedi e basta, perché non tocchi con mano personalmente per altre ragioni. Allora, stavo un po' divagando. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo far sì che le navi da 60 metri in su possano rimanere, addirittura nella discussione che c'è stata con diverse persone interessate, abbiamo avuto una discussione per dire ma qui non ci date la garanzia che ci possa stare uno yacht di 200 metri. Uno yacht di 200 metri? È una nave da 200 metri. Attualmente, che io sappia, lo yacht più grande che esiste va poco meno di 160 metri, mi pare che sia di Abramovic, quindi stiamo parlando di una cosa... No, mi hanno spiegato che invece, nonostante tutta la crisi mondiale, questo mondo sta crescendo. Quindi questi tedeschi stanno già costruendo due yacht da 180 metri e presumono anche nell'arco di quattro anni di iniziare anche la costruzione di diversi yacht da 200 metri. Carissimo Presidente, per riportare il discorso alla realtà cittadina, se c'è una cosa di cui andiamo sicuri è che mai si è sentito parlare così tanto, in termini positivi, dell'amministrazione, di questa amministrazione portuale. Cosa è successo? È soltanto una questione di ufficio stampa o le cose le hai fatte sul serio? No, beh, intanto è importante una cosa, che se tu non dici cosa fai, è come se non avessi fatto. Dici uno sdusciri. Quindi comunque una comunicazione ci deve essere. No, c'è un problema, cioè se non fosse così sarei, scusate, veramente un idiota, perché io ormai sono il Guinness dei primati, perché sono l'unico parlamentare che ha avuto una seconda nomina e si è dimesso. Durante la seconda. No, non durante, io ero un senatore, ero alla quinta legislatura, ho dimostrato di avere anche i voti per poter ambire anche a un proseguo di attività, avevo uno status, io ho rinunciato. Cioè io sono stato, mi hanno chiesto di seguire, mi hanno detto, mi ha detto Berlusconi, allora il Presidente mi ha detto, ma scusa, mi ha rotto le scatole per anni con questo porto di Cagliari. Siccome ormai ci rendiamo conto che i porti non possono essere gestiti dai tecnici, ma hanno bisogno di una visione molto più ampia che il politico dovrebbe aver assimilato nella sua attività, un po' in via, diciamo, trasversale, cioè tutti gli schieramenti stanno orientandosi a chiedere la disponibilità di persone che abbiano anche esperienza politica, ma che conoscano anche il problema della portualità, per poter gestire il porto. Noi avremmo pensato a te per Cagliari. All'inizio mi sembrava come se mi dicessero, vattene via così ti mandiamo nel cimitero degli elefanti. In realtà, siccome io ho sempre creduto nel porto di Cagliari, ci ho riflettuto, ho detto, beh, io ho sempre chiesto ad altri di fare ciò che credevo fosse opportuno. Oggi, a questo punto, siccome ho tre bambini piccoli, mi rendo conto della disperazione che c'è, so di essere stato un fortunato, ma un fortunato perché la gente ha creduto in me. Oggi è giusto che io lasci una poltrona dorata, la lascio ad altri, è giusto che ci sia il ricambio, e invece voglio realizzare ciò in cui credo. E lo sto realizzando. Semplice ragionamento. Primo, da quando sto amministrando, sarà anche una situazione favorevole, ma con un gioco di squadra abbiamo ridotto così i costi che oggi noi costiamo quanto un porto africano. Sicuramente non come madonna opera, ma come velocità nel realizzare le opere, anche se le abbiamo velocizzate. Però abbiamo una stabilità politica pazzesca. Quindi oggi la Renault, che aveva investito a Tangerine Med e ha fatto un'industria pazzesca, ha paura. Perché si rende conto che non c'è una stabilità e che purtroppo certe forze politiche che stanno emergendo nel Nord Africa parlano di nazionalizzazione. Cioè, quello che è tuo, adesso diventa della mia nazione, anche se hai pagato tu, anche se hai speso tu, eccetera. Quindi sta diventando preoccupante. Quindi fammi capire, cioè, chi sta peggio di noi all'interno politico? Voglio dire, stabilità inferiore. Allora, cosa stiamo dicendo? Noi abbiamo un sacco di disoccupati che hanno voglia di lavorare, che purtroppo sono stati obbligati anche a fidelizzarsi a lavori anche molto bassi, vedi i call center, perché non hanno alternative. Però hanno dimostrato che quando hanno fatto il lavoro, anche il più umile, l'hanno fatto seriamente e con grande professionalità. Allora, vi diciamo, venite da noi. E stanno rispondendo. Cioè, venite da noi. Noi abbiamo il territorio. Abbiamo la possibilità di accogliervi. Abbiamo un sistema di container che è ai vertici. Una cosa che stavo dicendo è che noi, che mentre tutti stanno crollando, noi stiamo crescendo. Noi stiamo crescendo e stanno aumentando i container. Naturalmente, se arrivano i container e riusciamo ad avere anche dietro al porto un'organizzazione di smistamento di altro, per esempio, io sto pensando a un player e nei prossimi giorni sto cercando di far di tutto per andare a parlare con Ikea. Perché essendo il mercato dell'Africa il mercato più ghiotto che ci sia, sicuramente Ikea ha interesse a mettere strutture. Ma tutto ciò che gli arriva da tutti i paesi del mondo deve assemblarlo, smistarlo e portarlo in Africa. Lo porta con il container o lo porta con il trasporto gommato. Allora, noi abbiamo il trasporto gommato in crisi, quindi non vede l'ora di poter lavorare per qualcuno. Abbiamo uno dei porti container che sta diventando veramente tra i migliori al mondo. Allora, lì voglio dire, vieni, sistemi, ti diamo il terreno al più basso costo possibile, a patto che prenda tanta gente a lavorare. Noi ti smistiamo tutto e diventiamo il tuo punto di riferimento per il Nord Africa. Abbiamo trasferito tutto il traffico croceristico nel molo rinascita, che è più adatto per i venti, per l'attracco, ha le profondità ed è a posto. Stiamo in tempi celerissimi trasferendo tutta l'attività commerciale che c'era là nel portocanale, che è la sede naturale, perché li abbiamo creato. Gli stiamo creando tutti, stiamo venendo incontro alle società per rendere meno doloroso possibile questo trasferimento e anzi, perché questo trasferimento crei occasione di un miglioramento, quindi più posti di lavoro e più attività. E abbiamo fatto un bando che tutti ci hanno boicottato, ma questa faccia tosta è riuscita a convincere delle società a credere su questo progetto. Noi le abbiamo detto, il nostro molo, che è perfetto, noi ve lo diamo a un buon prezzo, a un patto che è presente nella concessione, che se non viene mantenuto ci può portare a togliere la concessione. Voi dovete fare l'onporto entro due anni. L'onporto vuol dire che le navi da crociera imbarcano da tutta l'Europa a Cagliari e riportano la gente su Cagliari, il che vuol dire che avendo l'aeroporto a sette minuti di distanza, faccio un esempio, a Savona devi perdere almeno tre quarti d'ora di tempo soltanto per andare dall'aeroporto al porto. Da noi sette minuti. Incominciamo già a fargli visitare i nuraghi, a fargli... Insomma, questo progetto, che cosa potrebbe creare? E che è reale, perché questa società che ci ha creduto, e stiamo parlando di un attifatto, dal termine a crociere di Venezia, che è il terzo termine a crociere al mondo, e che non crea concorrenza a noi, perché si rivolge a un altro mare, insieme alla Royal Caribbean, la seconda società al mondo... Da un punto di vista, diciamo, a contagio virale, l'aereo si deve riempire, la nave si deve riempire, vi diciamo che è una buona, un'ottima idea. Le sinergie con le altre realtà locali, per esempio il comune di Cagliari, Zedda, risponde, aggiurara, tamponara, come siamo messi? Per esempio, negozi aperti, quando uno va in via Roma... Il problema è che quello non c'entra Zedda. C'è gente che fa gavettoni a chi mangia in via Sardi. Più che con Zedda, io sto collaborando con l'assessore a Cagliari, che veramente sta cercando di fare di tutto, per fare questo abbiamo collaborato, perché mi viene in imbarazzo? perché lei stessa molte volte si è scontrata di fronte a delle realtà, cioè noi cerchiamo di motivare la gente, però arrivi la domenica e ti dicono i negozi sono chiusi, ma i croceristi più che i negozi temono altre cose. Faccio un esempio, i nostri beni per esempio ecclesiastici, tipo il suo castello, la nostra cattedrale, che è meravigliosa, che viene pubblicizzata, purtroppo vive del volontariato, e il volontariato dice il domenico me ne va dal mare. E quindi molte volte è capitato che questi signori siano fatti veramente in quattro per salire su in castello e abbiamo trovato tutto chiuso. I negozi servono, dicono ma non comprano niente, dipende anche dalla crociera, perché se arrivano i croceristi, tipo quelli che c'erano l'altro giorno, che hanno praticamente affittato tutte le macchine possibili, che hanno speso l'ira di Dio, che andavano nei negozi, che hanno persino comprato gioielli, questi li devi dare un servizio. Poi ci può essere anche, che soprattutto d'inverno, quando crolla il costo delle crociere, ci sono anche quelli che rubano le bottiglie d'acqua a colazione per non spendere. Ma quelli sono, a parte che sono delle eccezioni, ma è l'immagine della città. La città non vive solo di una giornata, vive anche di un'immagine che deve essere mantenuta. Quindi stiamo cercando di far capire che bisogna fare dei sacrifici. Qualche giorno fa, io ho assistito a una scena divertentissima, arriva questa nave, dove scendono questi tedeschi e americani, che sicuramente non avevano problemi di denaro, affittano la macchina qui sotto, e avevano il tom-tom, però dice, io voglio girare, e vedono una copia dei ragazzini, e gli fanno una domanda, e questo risponde con un inglese perfetto. Era con la fidanzatina, stavano scambiandosi delle coccole, e qui si è venuto e gli dico, senti, scusa, parli benissimo l'inglese, tra l'altro era simpatico, ha detto, ci aiuti a girare, ti paghiamo, sono con la mia fidanzata, piuttosto quanto dareste? No, noi ti diamo 400 euro. Arrimo la sua viva. A bairindi. Cioè gli ha detto, scusa, ci vediamo, non solo, ma in cinque minuti, ha chiamato una serie di amici, e tutte le macchine avevano il tomtom umano. Tutti divorziati. Cioè fidanzate e maschietti, erano pronti, erano pronti a fare il tomtom umano. Questo ragazzo, in una mattinata, tanto è vero che è venuto da me, ma non ne possiamo parlare, gli ha detto, no, è sempre Pasqua. Ha detto che si voleva fidanzare. No, non si voleva fare. Aveva pensato bene, che tutti i giorni poteva guadagnare 400 euro, non era così. I consorsi di negozianti, che dovrebbero invece fare una loro strategia di concerto con l'autorità del Porto, e magari a darci anche risorse per poter realizzare qualche cosa. Poi abbiamo cercato di fare un salto di qualità, stiamo cercando di essere presenti in tutte le fiere, ma non dando soltanto cioccolatini, o dolci sardi, o ballando il ballo sardo. Il ballo sardo lo mettiamo in un bel filmato tridimensionale, gli diamo gli occhialetti, si ammazzano per gli occhialetti con scritto Porto di Cagliari tridimensionale, però poi vedono le cose belle, ci siediamo e parliamo. Tra le tante cose, chiaccherone come sono, sono riuscito anche con il mio inglese Maccheronica a bloccare per un quarto d'ora la televisione più importante dell'India, che naturalmente andando in diretta ha costretto i giornali poi a interessarsi, ma chi è questo matto del Porto di Cagliari? Del Broken English. E quindi sono stati costretti poi a chiamarmi e intervistarvi, però quel quarto d'ora che è stato fatto insieme al Porto di Hamburgo, stiamo parlando come stessero, intervistando un giocatore del Cagliari, Messi, questa è la differenza, però Cagliari è presente, quindi chiaccherone, rompi balle, probabilmente servivo poco in Parlamento, anche se molti mi rimpiangono, però l'esperienza in mezzo al Parlamento mi ha permesso di avere il rispetto di tutti, fammi rispettare e con quattro lingue che parlo in maniera maccheronica mi faccio capire. Fantastico, io con questo pezzo, diciamo così, naturale, tutto integrale, come si dice, caro professor Pintero, andiamo così, abbiamo conosciuto una persona, io la conoscevo da un pezzo, ma vi abbiamo presentato una persona molto, molto importante, meravigliosa, il presidente Massida. Mi costa uno sconto in una crociera questo meraviglioso. Assuman Cugussu, visto che insomma... Carissimo Pier Giorgio, grazie infinita, buon lavoro con la tua, diciamo così, nuova professora. Un abbraccio a te e a tutti i telespettatori. a te e a tutti i telespettatori.